Monde di Nove Il Monde di Nove è un piccolo borgo medievale di circa 600 abitanti a 561 metri sul livello del mare, ai piedi del Monde dell'Ascensione, fra le valli del fiume Aso e il Tesino, nella provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Fa parte del circondario dei Monti Sibillini, nel territorio è la capitale della Mela Rosa. Infatti, Monti di Nove festeggia con un'iniziativa chiamata i Sibillini Rosa, punta alla valorizzazione della stessa eccellenza del territorio. Il Monde di Nove La provincia di Ascoli Piceno e Macerata, iscritta al repertorio della biodiversità agraria della regione Marche, vive in ambiente collinare e pedemontano, nelle zone vallive, fra i 450 e i 900 metri d'altitudine. È stata da sempre coltivata in orti e piccoli frutteti familiari, destinata prevalentemente al fabbisogno domestico, perché poteva conservarsi per lunghi periodi. La sua raccolta si svolge in autunno, nella prima decada di ottobre. La sua raccolta si svolge in autunno, nella prima decada di ottobre. d'indenso e suffuso del frutto. Si hanno notizie certe dell'esistenza delle mele rosa dei Sibillini già in epoca romana. Sono menzionate dal poeta latino Quinto Orazio Franco nelle sue satire paragonandole alle Tivolesi e scrive che sebbene le mele del Piceno siano meno belle ma hanno un sapore migliore. Ah, 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 ah Grazie a tutti.